L'Associazione Sulla Sieve e la Fattoria Lavacchio hanno organizzato l'evento Rock the Wine dedicato agli amanti del vino, della musica di qualità e della bellezza delle colline toscane. Nella splendida cornice del Parco del Cedro della Fattoria si è tenuta una degustazione di vini biologici e prodotti locali e poi un concerto di una band icona del rockabilly moderno a livello internazionale, i Di Maggio Connection. Il ricavato della serata servirà a contribuire ai progetti dell'Associazione Sulla Sieve e alla ricostruzione dei locali della Polisportiva di Sieci recentemente colpiti da un incendio. Durante la serata, oltre al ricco buffet e alla grigliata, è stato possibile degustare gli ultimi vini prodotti dalla Fattoria Lavacchio, mentre nel pomeriggio è stata organizzata anche una visita guidata nei luoghi storici del comprensorio intorno alla fattoria, il mulino a vento di Monte Rifrassine, le ceramiche innocenti, la pieve di San Lorenzo e le cantine della Fattoria di Lavacchio, con la collaborazione di Lilia Firenze. Questa era un'iniziativa che abbiamo pensato diversi anni fa e grazie all'Associazione Sulla Sieve siamo riusciti a concretizzarla dopo diversi anni. L'idea era quella di presentare il vino in modo molto più libero, molto più democratico e farlo degustare in modo diverso, accompagnato da un concerto rock per fare qualcosa di più scintillante. Sono tutti vini molto particolari e anche per questo abbiamo voluto abbinare concerto rock. Si tratta di un Chianti senza solfiti, l'unico Chianti senza solfiti che si chiama Puro, Albeggio che è un rosato di sirà abbinato a uno sciroppo di pompelmo e il bianco del mulino che è un bianco di trebbiano abbinato allo sciroppo di pesca. Si tratta di un altro connubio tra l'associazionismo e la realtà del territorio con il solito obiettivo che è quello di valorizzare la zona, il territorio e i prodotti del luogo e sempre con un occhio valorizzando anche il volontariato e dando il ricavato in beneficenza alle persone che hanno meno fortuna di noi.